Siamo con il dottor Pozzoli, detto cioccio per gli amici, e siamo tornati a Lourdes. Pochissimi ammalati per le norme anti-covid. Com'è stato organizzare questo pellegrinaggio? Rispetto ai pellegrinaggi che facevamo una volta, 500-700 persone, è stata una passeggiata. Una passeggiata perché purtroppo portare solo 120 persone, l'organizzazione è molto più fluida, molto più dinamica, non è un'organizzazione complessa come quando si avevano tanti ammalati. Però il piacere è grandissimo di poter riprendere questa tradizione di pellegrinaggio. Voi sapete tutti che per noi Lourdes è il posto dove il cuore sta bene. Io ieri sera, quando sono arrivato, sono arrivato e sono andato alla grotta. Mi sembrava di essere andato via il giorno prima. Mi sembrava una cosa fantastica essere ancora lì davanti, davanti alla Madonna. E questo è il segreto di Lourdes. Il segreto è viverlo con il cuore libero, con il cuore gioioso, che è la cosa più bella, la cosa più entusiasmante, soprattutto perché quando c'erano gli ammalati si viveva con loro, ma anche senza ammalati c'è un intimismo meraviglioso.